E' illegittimo il diniego di rinuovo dal permesso di soggiorno per lavoro autonomo, fatto discendere dalle condanne subite dal ricorrente per violazione delle norme sul diritto d'autore. La norma contenuta nell'articolo 26,7 bis del Decreto Legislativo n. 286 del 98 non è applicabile al caso di specie, atteso che trattasi di reato commesso il 29 ottobre 1999. Dalla disposizione, introdotta dalla legge 189 del 2002, deve essere interpretata come applicabile, razione temporis, solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, e che pertanto, in caso di condanna penale successiva all'entrata in vigore di tale disposizione, occorre avere riguardo alla data del commesso reato, potendosi applicare l'automatismo espulsivo solo nel caso in cui anche il reato, e non solo la condanna, siano successivi alla data di entrata in vigore suddetta.